ciao a tutti sono francesco sono laureato in lingue l'anno 2020 per me è stato un anno ricco di obiettivi prefissati e fortunatamente il 2021 è stato anche un anno ricco di obiettivi raggiunti infatti diciamo che tra i due obiettivi più importanti c'era quello di capire un po in più del mondo e commerce e capire anche qualcosa in più del mondo informatico essendo io completamente a digiuno essendo io laureato in lingue però grazie appunto al master in e commerce management al quale poi mi sono iscritto grazie quindi ai corsi grazie poi al tirocinio formativo previsto proprio dal master ho assimilato tante competenze che mi hanno poi portato a raggiungere questi obiettivi in settimana infatti proprio grazie al master grazie agli obiettivi raggiunti ho potuto firmare un contratto come seo specialist junior presto